Tra poco Sul canale 17 di Fano TV l'informazione locale Il comune di Fano elimina sette posti auto per realizzare una pista ciclabile in Viale Adriatico senza però avvisare i commercianti che adesso protestano Fusione tra Aset Oldige e Aset Spy Il Consiglio Comunale ha votato sì all'atto di indirizzo ma per la fusione vera e propria ci vorrà ancora tempo A Cattoceto il Sindaco Rossi annuncia i lavori di copertura di un padiglione al cimitero della Pieve Due serate che sono state un successo dalle emozioni in musica di Marco Masini e Luca Vagnini alla passeggiata da paura con quasi mille persone al seguito con l'attore fanese Filippo Tranquilli Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Buonasera cari telespettatori di Fano TV benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale cominciamo dalla cronaca ci sono due notizie che sono appena arrivate in redazione La prima è una rapina che c'è stata alle 19.30 in via dei Pioppi, in strada dei Pioppi 3 dove ha sede il mercatone 1 questa è l'unica notizia che le uniche informazioni che abbiamo perché davvero è successo poco fa evidentemente dei rapinatori un rapinatore, non sappiamo ancora esattamente quante persone hanno agito è chiaro che lo hanno fatto o lo ha fatto soltanto quasi alla chiusura del magazzino per cercare di arraffare più soldi possibili in cassa visto che il mercatone chiude alle 20 poi invece l'altra notizia è un incidente stradale che si è verificato un gravissimo incidente stradale che si è verificato in strada delle Marche siamo all'ingresso di Pesaro vedete vicino all'istituto Santa Marta l'istituto alberghiero intorno alle 17.15 di oggi pomeriggio un'auto si è scontrata con una moto è un uomo del 40 che stava appunto in sella alla motocicletta che è caduto rovinosamente a terra ed ora è ricoverato in gravissime condizioni in prognosi riservata da quello che ci risulta purtroppo è in pericolo di vita queste sono le ultimissime con le quali abbiamo aperto il nostro telegiornale ma adesso in scaletta abbiamo la notizia che il Comune di Fano realizzerà una pista ciclabile al mare e per realizzarla ha dovuto sacrificare sette posti auto una scelta una decisione che però non è piaciuta ai commercianti cambiamenti in vista in viale adriatico a Sassonia di Fano dopo i lavori di asfaltatura gli operai stanno tracciando la segnaletica orizzontale ma con diverse modifiche alcuni parcheggi per le auto sono stati sostituiti con quelli per la sosta di moto e scooter la decisione è stata presa dall'amministrazione comunale in vista della nuova pista ciclabile che verrà realizzata dopo Ferragosto infatti fra gli obiettivi della giunta fanese rientra quello di riqualificare i percorsi ciclabili della città e promuovere la mobilità sostenibile realizzandone altre come quella che andrà a collegare Fano a Senigallia o quella nel quartiere di Bellocchi qui insieme a Rosciano e Gimarra inizieranno anche i lavori di asfaltatura e poi il rifacimento della segnaletica non appena termineranno quelli programmate nell'interquartieri che prenderanno il via la prossima settimana quindi anche questo è un'altra risposta positiva che dimostra l'attenzione e la sensibilità di questa amministrazione a tutto quello che è il tema della mobilità sostenibile e il tema delle piste ciclabili a breve porteremo anche il nuovo piano delle piste ciclabili della città la pista ciclabile nel lungomare di Sassoni andrà a collegare Viale Ruggere al porto di Fano sarà larga due metri comprese le strisce di delimitazione e verrà verniciata di colore rosso per renderla più visibile per ora rimarrà senso unico di marcia ma in futuro non si esclude che possa diventare a doppio senso eliminando ulteriori posteggi questo intervento secondo noi è abbastanza importante perché dovrebbe portare i ciclisti che attualmente percorrono la passeggiata lungo la spiaggia a percorre invece proprio il percorso ciclabile quindi a garantire di più la sicurezza dell'altro della passeggiata mare in sostanza una precisazione anche perché verso la passeggiata al lato mare c'è un divieto sì c'è un'ordinanza è vigente già da tempo che appunto vieta a qualsiasi veicolo di percorrere quella passeggiata e siccome la bicicletta è un veicolo e questo è sottinteso ovviamente questo percorso ha comportato una diminuzione dei posti auto non sono tantissimi sono soltanto quelli che erano presenti in corrispondenza degli allargamenti del marciapiede sul lato opposto mentre tutti gli altri stalli di sosta vengono mantenuti vengono mantenuti sia gli stalli per il carico scarico delle merci che quelli per i disabili e sono stati anche inseriti gli stalli per le moto per i motocicli in linea cioè in parallelo alla strada la carreggiata cercando di mantenere appunto la situazione esistente il più possibile però come dicevamo appunto qualcuno ha storto il naso hanno cambiato questa segnaletica orizzontale che cosa ne pensate è meglio così oppure era meglio lasciare le cose come stanno era meglio che lasciavano le cose come stanno perché a noi commercianti ci ha molto danneggiato ma danneggiato non a livello di tutti di tutti noi commercianti speriamo che in qualche qualche giorno si cambia come era prima c'era un ricambio di gente che permetteva a tutti i commercianti e i ristoratori i bagnini e quelli della piscina specialmente i bambini che avevano un posto da parcheggio un quarto d'ora a venti minuti così non abbiamo più niente e stamattina abbiamo visto la confusione dei camionisti che non hanno il posto di scaricare e caricare nei nostri negozi stamattina alle sette e mezzo che passeggiano i vigili per poi dar la caccia alle multe ma questo è un problema che riguarda anche le persone diversamente abili eh sì purtroppo noi ci riguarda direttamente perché abbiamo disabili in famiglia ma non è tanto quello il fatto è che abbiamo assistito ad una scena ieri veramente assurda perché avevano tolto i parcheggi persino per i disabili e delle persone che andavano negli stabilimenti di fronte a noi hanno fatto delle scene delle scene poveretti non sapevano hanno abbandonato il disabile sulla passeggiata portato via l'automobile con dei disagi veramente veramente assurdi guardi ne sta arrivando proprio uno con un disagio veramente veramente notevole avete avuto difficoltà anche voi? ma io guardi c'avevo il posto invalido qua davanti c'ho mia madre che è invalida c'era un posto invalido e è stato eliminato e ora come pensate di risolvere in qualche modo la situazione? per voi un grosso disagio? ma allora qui non è questione di risolvere la situazione questa educazione questa macchina è in contravenzione lì occupa il marciapiede è parcheggiato sul marciapiede quindi deve essere spostata chiamo la polizia municipale se viene voi avete riscontrato disagi invece? sì abbiamo riscontrato disagi perché tanto alla fine con il fatto che le macchine parcheggiano ugualmente e si mettono in mezzo al marciapiede e i bambini devono attraversare per andare dall'altra parte in mezzo alla strada avete ricevuto delle lamentere anche da parte dei clienti? dei turisti soprattutto dei turisti che dicono che questi parcheggi sono sceni insomma non hanno nessun senso non hanno nessun non è il luogo adatto per metterli non va bene per campare basta il discorso è poco io lavoro qui danneggia anche noi tutti quindi se la signora chiude noi ci siamo spazi ieri in consiglio comunale si è parlato di sanità e della fusione di Aset Spa con la holding vediamo com'è andata beh la mia risposta è già fatto nel senso che avevo già predisposto tutto quanto dimostrazione che quando dico una cosa io gli impegni li mantengo sempre risponde così il sindaco di Fano Massimo Seri alla lettera del comitato io firmo per la salute le forze politiche locali che si battono per un referendum sulla sanità avevano chiesto al primo cittadino di passare ai fatti dopo le parole e gli impegni presi la deribera che andrebbe a modificare lo statuto è stata già approvata in giunta e verrà presentata all'attenzione del prossimo consiglio comunale questa permetterà di svolgere il referendum fino al 31 ottobre e non più entro il 15 settembre permettendo così un tempo maggiore per la campagna elettorale i 5 stelle però sottolineano che è stata portata una modifica sul fatto che dal primo gennaio 2017 i referendum potranno essere associati alle altre consultazioni politiche portando un risparmio di 60 mila euro di conseguenza quella sulla sanità verrà esclusa e i 5 stelle annunciano battaglia presentando un emendamento la proposta che ho fatto io è quella di estenderlo fino alla fine di ottobre e anticiparlo da marzo quindi il periodo sarà marzo-ottobre durante la consueta conferenza stampa del venerdì con i giornalisti Seri ha espresso anche soddisfazione per la decisione presa ieri dal consiglio comunale che ha votato sì alla fusione delle due Aset sarà dunque Aset Spa ad incorporare la holding per il partito democratico questo atto ha un doppio valore quello di un risparmio sulle bollette e la qualità dei servizi e uno di carattere politico sulla fusione infatti si è allineato anche gran parte del centrodestra hanno votato contro Mirisolla di Forza Italia Severi di Unicità Pierpaoli di Fano Città Ideale e i consiglieri del Movimento 5 Stelle ieri è stato approvato un atto importante un'altra bandierina che mettiamo sul nostro programma la derivata di indirizzo per la fusione di Aset che in realtà è un indirizzo ma è un'azione concreta perché seguiranno degli atti concreti rimaniamo in tema di Aset perché i consiglieri d'opposizione Davide Del Vecchio e Alberto Santorelli hanno presentato un esposto alla Procura della Repubblica perché possa valutare l'eventuale rilevanza penale della diffida loro inviata dall'Aset Holding il 5 luglio scorso con la diffida i due consiglieri venivano intimati a rendere noti entro 5 giorni lo ricorderete i nomi delle persone che gli avevano rivelato delle informazioni riservate oppure di attribuirsi la paternità delle supposizioni prive di una base di conoscenza così c'era scritto in sintesi su questa diffida adesso ci spostiamo invece a Cartoceto perché il sindaco Enrico Rossi ha annunciato un intervento molto atteso dalla città ovvero i lavori di copertura di un padiglione al cimitero della Pieve si tratta di un progetto del 2012 che però fino ad oggi non aveva trovato finanziamento abbiamo deciso come amministrazione comunale di garantire l'adeguata copertura finanziaria di 36 mila euro ed è un intervento appunto di copertura dei nuovi padiglioni molto sentito e devo dire molto atteso da parte di tutta la cittadinanza che così potrà recarsi a trovare i propri cari anche nei mesi più rigidi al riparo dalle intemperie e soprattutto direi anche quelli che sono i pensieri floreali che i familiari decideranno di lasciare depositare al cimitero potranno godere di adeguato ristoro quando prenderanno il via ai lavori? all'incirca dovrebbero iniziare nel mese di settembre per poi essere conclusi entro il mese di ottobre perché abbiamo chiesto specificatamente agli uffici che per le prossime per la prossima ricorrenza dei cari defunti l'intervento sia appunto terminato allora adesso parliamo delle zanzare perché nella zona dei passeggi il comune effettuerà un'operazione che servirà per debellare questo fastidiosissimo insetto allora l'assessorato all'ambiente del comune ha programmato questo intervento di disinfestazione nella zona dei passeggi a partire dalle 4.30 della mattina di mercoledì 3 agosto qui ci viene in aiuto la grafica nell'orario di chiusura dei giardini pubblici ma attenzione a titolo precauzionale è bene che tutti coloro che abitano nelle vicinanze allontanino gli animali domestici raccolgano la frutta e la verdura proteggano le piante con reti di plastica in modo ermetico e portano all'interno delle abitazioni gli abbeveratoi giochi per bambini anche i panni gli indumenti eventualmente stesi inoltre durante i trattamenti per la disinfestazione per uccidere queste zanzare non si potrà passeggiare o sostare nelle aree interessate sarà necessario rimanere all'interno delle abitazioni con porte e finestre ben chiuse e chiudere in sostanza l'area condizionata tutte le informazioni comunque in particolare le troverete nel nostro sito internet occhiolanotizia.it vi ricordiamo che sabato mattina inaugura un nuovo punto IAT un ufficio che servirà per dare informazioni turistiche e accogliere i turisti e comunque non solo i turisti il punto IAT lo vedete tutto restaurato si trova in via Nazario Sauro al porto di Fano a Isola del Piano invece torna l'appuntamento annuale con un convegno dedicato all'agricoltura biologica Giunto alla diciannovesima edizione il convegno Bio Europa esituito da Gino Girolomoni profeta del biologico fin dal 1977 sarà ancora una volta l'occasione per analizzare la situazione attuale di questo settore e provare a progettare il futuro valutando opportunità e possibili minacce insieme al mercato dei prodotti biologici infatti cresce anche il fenomeno del falso bio e l'incontro che si terrà sabato 30 luglio alla cooperativa Girolomoni di Isola del Piano avrà fra gli obiettivi quello di sostenere gli agricoltori che operano nel rispetto della legge promuovendo prodotti di qualità al convegno organizzato dalla cooperativa Montebello si incontreranno agricoltori operatori del settore amministratori ma anche consumatori e personaggi di spicco nell'ambito della cultura e dell'economia La giornata si struttura in due momenti una prima parte ci saranno dei relatori che ci parleranno del piano strategico nazionale per l'agricoltura biologica poi si entrerà nel merito delle filiere e dei distretti parlando sia del PSR Marche ma anche della possibilità di avviare distretti e filiere nazionali e poi affronteremo anche il tema del credito che è molto importante perché per sostenere progetti che abbiano anche una rilevanza economica molto importante occorre anche la capacità di collaborare con gli istituti di credito che devono sostenere e finanziare i progetti di una certa importanza poi la seconda parte sarà più politica avremo l'occasione di confrontarci con amministratori politici giornalisti per appunto fare un po' il punto della situazione dell'agricoltura biologica e vedere quello che la politica può fare per sostenere distretti e filiere colte che cosa si intende per filiere colte ci piace parlare di filiere colte capace appunto di tenere insieme questo binomio agricoltura e cultura e alla pinacoteca San Domenico di Fano domenica 31 luglio alle 21 e 15 si terrà un concerto del coro jubilate San Lorenzo in campo diretto da Olinto Petrucci l'evento è organizzato dalla fondazione Cassa di Risparmio di Fano e rimaniamo in tema di concerti perché l'orchestra sinfonica Rossini ha presentato le prossime serate che si svolgeranno alla BCC Arena di Fano abbiamo terminato la stagione di concerti con questo Guerre Stellari che ha avuto in questa piazza un grandissimo successo in replica a Pesaro Rocca Costanza e abbiamo pensato di fare una sorta di appendice alla stagione con tre appuntamenti anche quelli secondo me bellissimi saranno tre concerti all'Arena BCC Gli organizzatori siamo noi la BCC di Fano e la stessa cooperativa Tre Ponti partiamo il 2 agosto con Dr. Gam al secolo Andrea Gamurrini un artista preso del territorio preso dalla Universal singolo Dr. Gam is in a Da House è già un grande successo nel web ha avuto più di 18.000 visualizzazioni in pochissimi giorni e quindi pensiamo di lanciare un grande artista e il suo nuovo disco Another Family sarà una serata per chi si vuole lasciare andare al ritmo lasceremo anche uno spazio per ballare quindi sarà davvero una serata divertente ed emozionante poi passeremo a Ferragosto abbiamo deciso di produrre a Ferragosto la replica dei Led Zeppelin il martello degli dei questa produzione che ha avuto lo scorso inverno il record a Ferragosto